Non scendere mai a compromessi con il peccato, trattare sempre con misericordia i peccatori. E' ciò che ha insegnato Cristo nel Vangelo e che Papa Francesco ha approfondito nella Catechesi all'udienza generale tenuta in Piazza San Pietro davanti a circa 30.000 persone. Al termine dell'udienza generale in Piazza San Pietro il pensiero del Papa è tornato nuovamente alla popolazione dell'Ucraina ricordando la speciale colletta indetta per domenica prossima in favore di quanti nel Paese patiscono le conseguenze della violenza. Il Santo Padre, poco prima dell'udienza generale, ha incontrato nell'auletta dell'Aula Paolo VI gli atleti della Federazione Austriaca di Ski. Quando penso all'Austria con le sue montagne alpine ha detto «Mi viene in mente anche lo sport invernale. Lo sci ha una grande importanza e tradizione nel vostro Paese e tutta la popolazione è in grande fermento quando voi sostenete delle gare avvincenti». Si è svolto nei giorni 18-19 aprile 2016 la prima riunione del XIV Consiglio Ordinario della Segreteria Generale del Sinodo dei Vescovi preseduta dal Santo Padre come riferisce la Sala Stampa della Santa Sede. Il grazie al Papa per l'esortazione apostolica del Presidente del Pontificio Consiglio per la Famiglia Monsignor Vincenzo Paglia. Ora, ha detto, dobbiamo rendere tutta la pastorale più familiare e rafforzare il legame Chiesa-Famiglia affinché nessuno si senta escluso. All'udienza generale di oggi in Piazza San Pietro, davanti a circa 30.000 fedeli, Papa Francesco si è soffermato su un aspetto della misericordia ben rappresentato dal brano del Vangelo di Luca. Si tratta di un fatto accaduto a Gesù mentre era ospite di un fariseo di nome Simone. Mentre si trovavano seduti a pranzo, entra una donna conosciuta da tutti in città come una peccatrice. Questa, senza dire una parola, si mette ai piedi di Gesù e scoppia in pianto. Le sue lacrime bagnano i piedi di Gesù e lei li asciuga con i suoi capelli, poi li bacia e li unge con un olio profumato che ha portato con sé. Risalta, ha osservato il Papa, il confronto tra le due figure, quella di Simone, lo zelante servitore della legge, e quella dell'anonima donna peccatrice. Mentre il primo giudica gli altri in base alle apparenze, la seconda, con i suoi gesti, esprime con sincerità il suo cuore. Il fariseo non concepisce che Gesù si lascia contaminare, fra virgolette, contaminare dai peccatori. Così pensavano loro. Egli pensa che se fosse realmente un profeta, dovrebbe riconoscerli e tenerli lontani per non esserne macchiato, come se fossero le brossi. Questo atteggiamento è tipico di un certo modo di intendere la religione ed è motivato dal fatto che Dio e il peccato si oppongono radicalmente. Ma la parola di Dio, ha proseguito Francesco, ci insegna a distinguere tra il peccato e il peccatore. Con il peccato non bisogna scendere a compromessi, mentre i peccatori, cioè tutti noi, siamo come dei malati che vanno curati e per curarli bisogna che il medico li avvicini, li visiti, li tocchi. E naturalmente il malato, per essere guarito, deve riconoscere di aver bisogno del medico. Tra il fariseo e la donna peccatrice, Gesù si sciera con quest'ultima. Gesù, libero da pregiudizi che impediscono la misericordia di esprimersi, il Maestro la lascia fare. Lui, il Santo di Dio, si lascia toccare da lei senza timere di esserne contaminato. Gesù è libero, libero perché vicino a Dio, che è Padre misericordioso, e questa vicinanza a Dio, Padre misericordioso, dà a Gesù la libertà. Anzi, entrando in relazione con la peccatrice, Gesù pone fine a quella condizione di isolamento a cui il giudizio impietoso del fariseo e dei suoi concittadini la condannava. Da una parte, quell'ipocrisia dei dottori, di questo dottore della legge, dall'altra parte, la sincerità, l'umiltà e la fede della donna. Tutti noi siamo peccatori, ma tante volte cadiamo nella tentazione dell'ipocrisia di, dirò un po', di crederci migliore di gli altri, ma guarda tu il tuo peccato. A questo punto, uno stupore ancora più grande assale tutti i commensadi, chi è costui che perdona anche i peccati. Gesù non dà una esplicita risposta, ma la conversione della peccatrice è davanti agli occhi di tutti e dimostra che in Lui risplende la potenza della misericordia di Dio, capace di trasformare i cuori. La donna peccatrice ci insegna il legame tra fede, amore e riconoscenza. Le sono stati perdonati molti peccati e per questo ama molto, invece colui al quale si perdona poco, ama poco. Concludendo la sua catechesi, Papa Francesco ha invitato tutti ad essere riconoscenti del dono della fede, ringraziando il Signore per il suo amore così grande e immeritato, lasciando che l'amore di Cristo si riversi in noi. A questo amore il discepolo attinge e su di esso si fonda. Di questo amore ognuno si può nutrire e alimentare. All'udienza generale, salutando i pellegrini di lingua spagnola, il Papa ha manifestato la propria vicinanza e la preghiera per quanti sono stati colpiti dal terremoto in Ecuador. Il sisma di magnitudo 7.8 sulla scala Richter ha causato finora 507 vittime e oltre 4.000 feriti, oltre a distruzioni materiali ingenti. Salutando i pellegrini venuti dall'Ucraina e dalla Bielorussia, in occasione della conferenza internazionale nel trentesimo anniversario della tragedia di Chernobyl, il Santo Padre ha invitato a rinnovare la preghiera per le vittime di quel disastro, esprimendo riconoscenza ai soccorritori e per tutte le iniziative con cui si è cercato di alleviare le sofferenze e i danni. Infine, prima dei saluti in lingua italiana, Francesco ha lanciato un nuovo appello per l'Ucraina. Queste le sue parole. La popolazione dell'Ucraina soffre da tempo per le conseguenze di un conflitto armato, dimenticato da tanti. Come sapete, ho invitato la Chiesa in Europa a sostenere l'iniziativa da me indetta per venire incontro a tale emergenza umanitaria. Ringrazio in anticipo quanti contribuiranno generosamente all'iniziativa che avrà luogo domenica prossima, 24 aprile. Papa Francesco poco prima dell'udienza generale ha incontrato nell'auletta dell'Aula Paolo VI gli atleti della Federazione Austriaca di Ski. Quando penso all'Austria con le sue montagne alpine, ha detto mi viene in mente anche lo sport invernale. Lo sci ha una grande importanza e tradizione nel vostro paese e tutta la popolazione è in grande fermento quando voi sostenete delle gare avvincenti. Quindi ha aggiunto voi siete modelli soprattutto per molti giovani ma siete anche figure di integrazione non solo per le prestazioni sportive ma per le virtù e i valori rappresentati dallo sport. impegno, perseveranza, determinazione, correttezza, solidarietà, spirito di squadra. Con il vostro esempio contribuite alla formazione della società. siate sempre messaggeri della forza unitiva dello sport e dell'accoglienza. E ritornando alla richiesta naturale del vostro paese siate messaggeri della salvaguardia dell'ambiente e della bellezza della creazione di Dio. Grazie per la vostra visita. Il Signore e il Venerico a tutti. I giorni 18-19 aprile 2016 si è svolta la prima riunione del 14esimo Consiglio Ordinario della Segreteria Generale del Sinodo dei Vescovi presieduta dal Santo Padre Francesco come riferisce la Sala Stampa della Santa Sede. I lavori hanno avuto inizio con l'intervento del Segretario Generale il Cardinale Lorenzo Baldisseri che nell'indirizzo di saluto ha ringraziato il Papa per la sua presenza e per la recente pubblicazione dell'esortazione apostolica post-sinodale a Morris Letizia. A queste parole si sono associati tutti i membri del Consiglio testimoniando l'ampia accoglienza ricevuta dal documento da parte delle Chiese particolari di tutto il mondo. Successivamente sono stati presi in considerazione i risultati della consultazione promossa per individuare il tema della prossima Assemblea Generale Ordinaria presso i dicasteri della Curia Romana le conferenze episcopali le Chiese Orientali e l'Unione dei Superiori Generali. Dopo un ampio dibattito sono state individuate alcune proposte di temi da sottoporre al Santo Padre per la sua valutazione. Infine i membri del Consiglio si sono confrontati sulla revisione dell'Ordo Sinodi Episcoporum ultimo punto all'ordine del giorno. A questo riguardo Monsignor Fabio Fabene sottosegretario del Sinodo dei Vescovi ha tenuto una relazione sul seminario di studio appositamente organizzato dalla Segreteria Generale a seguito del discorso pronunciato dal Santo Padre il 17 ottobre 2015. I membri del Consiglio hanno approfondito il tema suddividendosi in circoli minores e hanno infine presentato in sessione plenaria una relazione sui lavori svolti. Dalle relazioni dei gruppi è emerso tra l'altro che la valorizzazione della sinodalità e della collegialità deve sempre coniugarsi con l'esercizio del Ministero del Vescovo di Roma in modo da congiungere fruttuosamente primato collegialità e sinodalità. Concludendo i lavori il Santo Padre ha ringraziato i membri del Consiglio per i loro contributi e per lo spirito di comunione fraterna vissuto nel corso della riunione. Come ha colto il Pontificio Consiglio per la famiglia questa esortazione apostolica? Beh, l'ha colto come un bellissimo parto visto che dopo due anni e mezzo di riflessioni di battiti di incontri ecco il Papa ha come raccolto un frutto che è maturato ed ora lo propone a tutta la Chiesa. Il Pontificio Consiglio sente la responsabilità ovviamente di questo grande dono e si mette ovviamente al servizio del Papa perché sia conosciuto ovunque perché sia compreso nella sua ricchezza perché davvero possa portare frutto. Direi che è un dono preziosissimo alla Chiesa ma anche alla società proprio perché la famiglia non è una questione ecclesiastica è una questione umana e la famiglia tiene in vita letteralmente sia la Chiesa che la società. Il sinodo si è chiuso ma il lavoro penso che è continuo forse anche inizia con un nuovo slancio. Direi che questa esortazione apostolica rappresenta uno storico cambio di marcia uno storico cambio di stile perché non è semplicemente uno strumento che ci invita a come dire a rinverdire la pastorale familiare questo documento ci esorta ad una nuova immagine di Chiesa ad una Chiesa che sia essa stessa famiglia e madre e proprio perché è tale riuscirà quindi ad accompagnare discernere e integrare e questo è il grande cambio di passo che poi è quello che l'Evangelica odium chiede cioè la conversione pastorale quindi in questo senso direi che per fare un'applicazione diretta alla vita delle nostre parrocchie noi dobbiamo rendere le nostre famiglie spesse chiuse loro stesse più ecclesiali e le nostre parrocchie spesso un po' troppo burocratiche ad essere più familiari insomma c'è da avviare una nuova alleanza tra famiglia e parrocchia per rendere le nostre città più familiari anch'esse non si tratta solo appunto come dicevo prima di rinverdire la pastorale familiare si tratta di rendere familiare tutta la pastorale perché nessuno sia escluso anche il più debole anche il più disgraziato il più sofferente costui deve sentirsi amato prima pagina dell'osservatore romano con la data del 21 aprile 2016 all'udienza generale l'appello per l'Ucraina e l'invito a partecipare alla colletta di domenica prossima conflitto dimenticato il Papa ricorda anche la tragedia di Chernobyl e prega per l'Equador colpito dal terremoto in fase di attuazione l'accordo tra Bruxelles e Ancara l'Unione Europea chiede tutele per i rifugiati non siriani per le violazioni della tregua in Siria a rischio i negoziati di Ginevra l'esortazione a Moris Letizia segno chiaro di misericordia